La capacità di condividere conoscenze ed esperienze con i nostri clienti è sicuramente alla base del nostro successo ed è proprio su questi concetti che abbiamo deciso di impostare la nuova comunicazione. Abbiamo deciso di coinvolgere in questo nuovo progetto il territorio locale e coloro che ne fanno parte ed in particolare i bambini. I bambini della classe seconda della scuola elementare di San Liberio sono quindi diventati gli attori e portavoce del nostro pensiero. Difondiamo la conoscenza per crescere insieme. E' il clima creativo che ci permette di trovare soluzioni alle diverse esigenze dei nostri clienti. Quindi non solo macchine, ma esperienza e conoscenza per crescere ed innovare. Grazie.